Libro Fly è questo il nome scelto per la biblioteca inaugurata nel circolo didattico statale Leonardo Sciascia di Caltanissetta nella giornata di venerdì 27 maggio, un ambiente di apprendimento potenziato grazie al supporto della tecnologia ed inclusivo prevedendo attività multisensoriale ad esempio, un luogo colorato e confortevole realizzato al termine di un anno circa di lavoro tra attività svolte in classe con gli alunni dedicate alla lettura, la partecipazione iniziative e progetti locali e nazionali è anche una fase di catalogazione, la biblioteca dunque con la guida delle due responsabili, le insegnanti Francesca Di Vincenzo e Ivana Di Stefano potrà ospitare i giovani lettori e permettere loro di soffrire dei testi presenti Noi abbiamo avuto questo sogno, quello di avviare i piccolini della scuola dell'infanzia, i bambini della scuola primaria alla lettura di tutti i tipi di libri che possono trovare all'interno di una biblioteca era necessario predisporre un ambiente adeguato, è nata così l'idea di creare una biblioteca al plesso Leonardo Sciascia utilizzando una sala che era già stata sistemata, era la sala di Erna che da oggi, grazie all'inaugurazione della biblioteca, diventa la sala Librofly la sala del volo grazie al libro una sala che ospiterà gruppi di bambini perché si possano realizzare all'interno esperienze di formazione e di apprendimento la biblioteca quindi come concetto di ambiente di apprendimento che favorisce le esperienze formative i bambini potranno soffrire del prestito abbiamo catalogato i nostri libri, si è creato un registro digitale per cui i libri saranno prestati e poi saranno restituiti speriamo di poter avviare il prestito già da quest'estate chiaramente con i nostri alunni e poi da cosa nasce cosa? per la prossima estate l'impegno dovrebbe essere quello di poter prestare i libri anche ai bambini del territorio per crescere i lettori di questo territorio la cosa più bella è che questa biblioteca nasca in una scuola che è dedicata a Leonardo Sciascia e quindi ha un valore ancora più forte e poi appunto è un tassello importante nella costruzione di questa comunità che legge e che ama leggere nella stessa giornata viene inaugurata nella scuola anche la rassegna di incontri un pomeriggio in biblioteca il primo appuntamento con la docente universitaria Marina Castiglione e la psicologa e psicoterapeuta Daniela Garofalo